Questo programma è offerto da Acqua Vita Sana e qualità e benessere in movimento Disseta la tua vita, bevi Acqua Vita Sana Da Ottica Center trovi i migliori brand Bulgari, Miu Miu, Gucci, tutte le novità di Raybem, Italia Independent e tante offerte su occhiali da vista e da sole Ottica Center è rivenditore autorizzato Tiffany & Co e Oakley Inoltre da Ottica Center visita computerizzata gratuita, mappa corneale, applicazioni di lenti a contatto multipocali, per astigmatici e per keratocono Ottica Center è al Centro Commerciale Due Mari a Maida, al Parco del Sole a Maierato, al Business Center Le Aquile a Catanzaro Gioelleria Rocca, dal 1898 una tradizione tramandata da anni, dove potrete trovare marchi di alta qualità Quali International Diamond, D&D Gioielli, 1R, Michele Affidato e Mari del Sud, linea esclusiva ideata dagli stessi titolari Inoltre sono presenti i prestigiosi marchi di orologeria, polpicot e accent Gioelleria Rocca, corso nomi strano, la mezzaterna Mediterraneo Wedding Cars, noleggio auto da cerimonia Vieni a trovarci sabato 1 aprile e domenica 2 aprile Ti aspettiamo dalle ore 9 alle ore 21 presso il Centro Commerciale Due Mari Maida Mediterraneo Wedding Cars, per farti vivere il sogno della tua vita Via Aldo Morotto, la mezzaterme Ehi, lo sapete che esiste una polizza auto che si paga rate mensili a tasso zero? Ma lo senti anche tu? Tasso zero? E ti dà anche servizi e sconti su diversi esami medici Non ci credo Neanch'io? Una polizza auto che mi dà anche lo sconto sugli esami medici Scopri tutti i vantaggi e servizi della polizza auto a tasso zero di Unipolsai Fai il tuo preventivo su unipolsai.it e in agenzia Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo Incredibile ma vero Novità nel fitness, direttamente negli Stati Uniti Corso di paddling, un'esclusiva Arvalia Novità fitness presso piscina comunale Salvatore Giudice alla mezzaterme Prenota ora una lezione gratuita a partire da sabato 18 marzo Per info telefonare allo 0968 43 48 32 Autoneleggio, PM Servizi SRL Affiliato a Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di La Mezzaterme Caro Tonino, siamo tutti a colore, tutti aiutati, tu mi credi? Aggiore mi ha fatto un dolore che stavo morendo Ma questo coso che l'hai pagato 20 euro A un momentino, non ho mai tornato a 20 euro Ma non lo so, ma tutto a colore sogno io Veramente sogno a colore Tonino, sono a colore io Assomiglio a Robocco Non ho mai parlato di tepe, ma mi hai scordato Ma mi hai detto la tua volta, telepatia telepatia Abbiamo una telepatia E pare che? Tu mi hai messo i pantaloni veduti e io mi hai messo i pantaloni veduti Compa, io ti ho solo chiesto Tu cambia ogni giorno i pantaloni, basta eccitare Guarda il professore come ha contato il birro stamattina La mattina è bellissima Perché il professore dice sempre con lo stesso vestito, sempre con la stessa giacca E ora guarda come ha contato il birro La cravatta però ci voglio io Perché un professore deve portare la cravatta No, non gli va bene Allora Allora, intanto Salutiamo Salutiamo la Mezia Abbiamo il banco stamattina che è balleria Non è che balleria, saluta la Mezia Così come hai così serio Salutiamo la Mezia La Mezia che ci ama tanto Ci ama tanto, vi raccomando Vi raccomando, fate svegliare questo la Mezia Che sta dormendo Vi raccomando Ancora aprirti Che sta dormendo la Mezia Veramente Allora Allora Oggi 30 Marzo Domani 31 Grazie Ieri 29 Poi domani Arriva il primo aprile Ti raccomando Donico Il primo aprile Per sapere Non ne fanno più Signore Che è successo? Che è successo? Cosa è successo nella nostra Amata città? Amata città? Eh? C'è alcuna cosa? Penso di sì Qualcosa ci deve essere Andiamo Ecco il mio amico Mi ha apriato subito Tu Che hai apriato subito? Tu buttai da mezzo A sto questo Ah E vabbè Sì Multiservizi Occupata la sede Occupata Occupata la sede Occupata Occupata la sede Che vuol dire Io me li occupiamo noi Monteservizi Vergo Occupata la sede Eh Che vuol dire? Cano occupata Cano occupata E che stai dicendo? Sì 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 È successo questo Questa è una novità Una novità Una novità Intanto Buongiorno a tutti quanti Ovviamente io non sono d'accordo Su questa manifestazione Che è stata Iscenata Dai sindacati Con i lavoratori della multiservizio Non sono d'accordo perché le cose Vanno raccontate per quelle che sono Beh guardate qua Io Punto il dito Spesso nei confronti del sindaco Dell'amministrazione Però Poi non bisogna tirare troppo la corda Non bisogna esagerare Bisogna dire anche le cose come stanno Cioè in questa vicenda cosa Ha indotto I sindacati E I lavoratori Ad occupare la sede amministrativa La sede dunque Della multiservizi Io ho sempre detto Che Sono anni che non ho nessuna stima Dei sindacati Sono anni Lo sto ribadendo qua Spesso Spesso Il rassegna stampa Lo rimarco Anche stamattina 30 marzo Non ho nessuna stima Dei sindacati Sindacati i quali Si muovono Si muovono No E fanno pur verata Come si dice dalle nostre parti Solo ed esclusivamente Per il vil danaro Solo per il danaro Adesso vi spiego anche questa cosa del danaro Non ho mai visto Mai I sindacati della multiservizi Fare sciopero Fare un sit-in Perché i mezzi Sono Disastrati E pericolosi Per l'incolumità Dei lavoratori E degli utenti Non ho mai visto I sindacati Fare sciopero E fare sit-in Per la sicurezza O per l'organizzazione del lavoro All'interno dell'azienda No L'unico modo per avere Uno straccio di consenso Ma E quando si parla di sordi Ormai il sindacato ha capito All'italiani succhisti Gli italiani sono questi Non è che i lavoratori della multiservizi Incrociano le braccia E dicono A chi di competenza Stamattina non lavoriamo Perché riteniamo che non ci siano le condizioni minime di sicurezza All'interno e all'esterno della multiservizi Avete mai visto I lavoratori fare questo No No Se c'è qualcuno che vuole smentire E mi ricorda Una manifestazione del genere Sono pronto a fare un passo indietro Perché di umiltà Non è morto mai nessuno Guardate qua Sta diventando Uno sport Abbastanza praticato Quello di attaccare Il sindaco Per ogni cosa Probabilmente anche per le condizioni meteorologiche Questo non mi sta bene Cioè noi siamo qua Per fare gli interessi della gente Per stimolare il sindaco e la sua squadra Eccetera Criticare apertamente Quando si deve criticare Che sono in ritardo Che non stanno facendo niente Eccetera Però nella fattisfece Nell'episodio di cui si parla Guardate qua Io trovo vergognoso Io trovo vergognoso quello che hanno fatto Cosa debbo pensare Debo pensare Che è stato Che la regia Viene da qualche parte Debo pensare che è stato Tutto quanto predisposto Pilotato Lo posso pensare Posso pensare che è stato fatto ad hoc Tu sciopero Eh? Che c'è la regia di qualcuno Lo posso pensare? Sì Lo posso dire? Sì a voglia Se lo posso dire Figuriamoci I dipendenti della multiservizi Hanno fatto casino perché Per la mancata corrisponsione Dello stipendio Io non so se qua lo dice Perché ieri sera ho parlato Con qualcuno eccetera Infatti 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 non leggo nulla Non leggo nulla Con una dotazione di 750.000 euro Infatti non leggo nulla sul giornale Ecco perché Ormai La carta stampata sta diventando Archeologia Eccetera Il comune Quindi la multiservizi Con una dotazione di 750.000 euro Cosa ha pensato? Ha pensato bene Di dirottare 500.000 euro Per il DURC Il DURC Io lo so che voi odiate Quando si hanno Il DURC Stiamo parlando Dell'aspetto contributivo Attenzione Quando parliamo di DURC Parliamo del documento Contributivo Dei dipendenti E Rimanevano 250.000 euro Per Venire incontro Allora Allora Il Cappato Hanno fatto un ragionamento di buonsenso Noi non possiamo permetterci in lusso Di non Spendere 500.000 euro per il DURC Perché Il DURC Ormai È diventato Qualcosa di delicato Nei rapporti tra comuni Per i crediti Se il DURC Non è a posto Il DURC non è a posto La multiservizi Non può incamerare nulla Nessun credito Picchi La prima cosa che vanno a vedere Vanno a vedere Il DURC Sanno imparato tutto Che è un acronimo Che parla del documento Praticamente che riguarda L'aspetto contributivo Dei dipendenti Stiamo parlando dei contributi Dei dipendenti Non dei contributi Dei dipendenti E da aggiunta Ovviamente Rimangono 250.000 euro L'amministrazione che fa Guarda Noi intanto Con il DURC Dobbiamo rispettare assolutamente Questo aspetto Anticipiamo 250.000 euro 220 Barra 250 Per il mese di febbraio Entro una settimana Chiudiamo il mese di febbraio Prima della Santissima Pasqua Chiudiamo marzo Guardate questo slittamento di un mese Di 10-15 giorni E' fisiologico C'è sempre stato Anche la regione O amici miei Che per esempio Marzo Ci pagano 9-10 aprile Cioè questo slittamento E' fisiologico Quindi Se io penso che ci sono aziende Le aziende che pagano a 10 mesi A 15 mesi A 2 anni Che la Stato Da merda Un numero imprecisato Di lavoratori Cappi in un mese in mezzo Vanno a occupare la sede Da molti servizi Ecco che puzza Puzza lontano un mio Hanno voluto Hanno voluto strumentalizzare questa cosa A mio parere Qualcuno Questo regista Non lo so Occulto No Che ha Scenato In scena Questa manifestazione A mio parere Pilotata A mio parere Voi lo sapete che io Rivendico Rivendico il diritto Di esprimere la mia opinione E me ne strafotto Mi capite? Quindi non sono d'accordo Ovviamente Fa rumore Giusto I colleghi della carta stampata Ovviamente Aprono Aprono la cronaca Locale Con questa notizia Ma è una notizia che No È una notizia che Quella Io la prendo per quella che Qua non c'entra nulla La situazione economica Della multiservizi I problemi Della multiservizi La multiservizi Va rivoltata Come un guanto Presidente Costanzo La multiservizi Presidente Costanzo Va gestita In maniera Manageriale È passato Il tempo Dalla poteca del vino Sta cambiando tutto Bisogna cambiare tutto E su questo ci siamo Io sto discutendo Su questo Su questo discorso Questa agitazione Dei lavoratori È un'agitazione fuori luogo Io la penso così Io la penso così E a proposito Io la penso così Venite qua per cortesia A fianco Dei campi da tennis E facite una cortesia Dopo questa agitazione Voi venite a pulizzare qua Che siamo allo centro della città Che siamo al centro Di un'aggregazione sportiva Che siamo a 200 metri del comune Venite a pulizzare qua Che a voi che si chiacchiere Sono chiacchiere Voi della multiservizio Non vi potete lamentare Leggetemi i giornali Guardate le televisioni Ci sono aziende Lavoratori Un video in una lira A decine e decine di mesi Non si possono rompere i coglioni Più 60 giorni Io do importanza al denaro Anch'io ho una famiglia So che significa Essere senza soldi Con gli impegni che si hanno Con le scadenze che si hanno Non vi pensate Che io venne di Marte Ho capito Complimenti comunque Mi devo complimentare con i sindacati Un di caggiativo Io vi dico Ho pensato serio Cioè voi state venendo meno A quelle che era la vostra mission Voi ad un sindacato Non sapete dove c***o sta di caso Il sindacato giù E' finuto il sindacato Quando avete fatto questa Passato questo discorso Fate sciopero Per la manutenzione all'interno Per la sicurezza sul lavoro Per l'organizzazione del lavoro Date il vostro contributo In questo Pilli dinari Perché poi le italiane siamo questi Bastano i brioche Come Maria Antonietta Eh? E dietroci un pochino i brioche Ecco A chi le dà un servizio? Basta non ti preoccupare Ci hanno pagato Ma che stucca? Ma ci pagano che? E loro sono soddisfatti Se poi ci succeda anche una cosa Sopra un camion Un compattatore Un pullman Che stucca? Il sindacato Bisogna farlo H24 Con sacrifici Con serietà Senza interessi Senza fare la corsa Ad occupare posti di privilegio Perché i sindacati Siete una cassa da tempo L'hanno capito tutti Prova ne sono Gli appannaggi annui Che stanno pigiando E pigliano i vostri leader sindacali Chi lo buon anno ha nascuto Con 308 mila euro All'anno Chi lo vendi uguale Buon anno Ma dove cazzo è migliore? Ma dove cazzo è migliore? Si stava meglio quando si stava peggio E chi ne parla male di 70, 80, 90 Anche 2000 va Vabbè Ma io sono stancato Doni Facciamo entrare il professore No Così ti aiuta Ma aiuta a che? Almeno diciamo una cosa Ma tu non vuoi dire niente Tu hai ragione Mille per mille E' così E' così Vedi il professore Viola Non lo voglio coinvolgere In queste discussioni Di carattere politico Perché lui appartiene A un'area politica E quindi è chiaro che Invece io Che in questa rassegna stampa Cerco di essere super partes Cerco di essere al di sopra degli schieramenti Minando carri a destra A sinistra E a due centri A me mi viene più facile E io non vorrei che poi Ma sai che può carri? Inzi da ricaricare il carri Presto vieni il cammino Mi faccio accomodare Buongiorno presto Buongiorno a voi Voi mi state Mi state coinvolgendo la mattina Nelle polemiche Serrate Ricca Io non vorrei Svolge con grande determinazione Io non vorrei che Riccardo è un uomo di parte Io meno a destra A sinistra A due centri Perché voglio stare al di sopra Perché mi interessa la città E' giusto il discorso che fa Ma scusa Ognuno di noi Ricca Leggiamoci la verità Non prendiamoci per i fondelli Ognuno di noi Si porta appresso un'idea Io la mia idea Qua La conosco La debbo Vabbè ma questo qua Alla mezza E' notorio Io sono stato sempre Ho sempre gravitato Nell'ambito Della destra Però attenzione Cioè nasconderlo E' da cretini Però voglio dire In questo ruolo Io non posso Io Come posso dire Elogio la sinistra Quando è giusto farlo Elogio la destra Quando è giusto farlo Meno Carri che io Quando è giusto farlo Attenzione Io parlo sempre Del discorso che ho fatto prima Io rivendo il diritto Di esprimere la mia opinione Cioè la mia Ho sempre detto Ai nostri telespettatori La mia non è la verità La verità La verità appartiene A Dio Nostro Signore La verità Assoluta Esprimo Un punto di vista Come è giusto che sia No? Chi c'è? Allora Novità Ma tu Organizza anche una cosa Adesso la settimana prossima Adesso la settimana prossima O fra due settimane C'è la terza prova del trofeo Kinder Che abbiamo organizzato nel caso Nascosto Kinder? Bellissimo Dove ci sono bambini appartenenti a tutte le categorie Bellissimo Ti chiamato Kinder? No è un trofeo No è un trofeo È un torneo nazionale Ah organizzato Quindi c'è la Ferrera Ci sono cinquanta prove distribuite in tutta Italia Bellissimo Una di queste la facciamo noi Alla Messia Come ogni anno qua al Palazzetto dello Sport E quando è che avverrà? Abbiamo un centinaio di bambini che partecipano Bellissimo Diverse categorie Bellissimo Dagli under addirittura 8 fino agli under 18 E quando è? Credo che un paio di settimane Se non vado errato se guardo il programma Dovrebbe essere fra un paio di settimane Prima della festa di Pasqua Dovrebbe cominciare qua Bellissimo Quindi come vedete C'è una lamesia in fermento C'è una lamesia in stato di agitazione Ma non è quello che In questo momento i ragazzini nostri Sono impegnati su Cosenza Perché stanno facendo quello che si sta svolgendo ora Ieri hanno partecipato una decina di ragazzini Molti erano qui e che facevano il lavoro di allenamento E ieri c'è stata una piccola ripresa Che Giovanni ha voluto fare all'interno E vedevo ringraziare di questo Perché Che cosa? No vabbè ma scusami Ricca Diciamocelo Ma diciamocelo Questa è una scuola Intanto La tua scuola di addestramento È molto conosciuta È nota Noi Facciamo la nostra parte E sottolineiamo questa notorietà Questo impegno Che state approfondendo da anni In questo settore Intanto Stiamo parlando di sport pulito Di sport Qua stiamo parlando di aggregazione davvero No? Eh di amicizia eccetera Cioè questo è uno sport sano Questo dove siamo noi qua È un ambiente sano Non ha nulla a che vedere con altri sport Dove la violenza impera No? Vedi il calcio Quello che ci propina ogni domenica È uno sport Non dico elettario Perché ormai si è diventato molto popolare il tennis Sì certo Ebbè una volta era elettario da vero Una volta era elettario Poi c'è un detto C'è un detto C'è un detto che gira sempre La gente Io gli inglesi non li ho mai potuti vedere molto Però c'è un detto che dice Insegnare, imparare l'inglese Il bridge e il tennis Ed entri nei migliori ambienti Perché sono gli ambienti più Vabbè una volta erano ambienti raffinati Una volta ci potevano giocare solo che le cave nella pila Che le cave nella pila No Però Però Si dimassa no? Eh certo Soprattutto nel periodo in cui vincemmo la Coppa Davis Allora ci fu un avvicinamento talmente forte di ragazzi Di appartenenti a tutti i cittadini sociali Poi tieni presente Che noi la socialità la pratichiamo tutti i giorni Perché quando abbiamo dei soggetti che non hanno la possibilità Di poter frequentare la scuola li aiutiamo come possiamo Sotto tutti i punti di vista Tony Questo l'abbiamo fatto sempre Non solo in questa linea Ma anche a livello di promuovere il tennis Per i ragazzi che sono in difficoltà Che sono portatori di handicap Non ti nascondo che io ho organizzato qui Il torneo in carrozzella Erano ragazzi che erano in carrozzella da tempo E io l'ho organizzato tra il palazzetto dello sport e qua Capito? Non l'ha avuto Però adesso questa è una ricorda Eh no ma l'ho organizzato tanti anni fa Ma poi dopo Ho fatto altre cose Sulla disabilità Ormai l'Italia Io credo che la nostra nazione non sia seconda a nessuno Si muove parecchie associazioni Si muove in questo senso Ormai già le parolimpiadi che sono organizzate da qualche anno E le avremo qua Avremo qua una Nel mese di aprile Organizzato da Arvalia Ci saremo anche noi in prima linea Sarà una manifestazione meravigliosa Meravigliosa perché Eh... Tratterà sulla disabilità Sportivi Disabili Speriamo di avere Dei personaggi illustri Anch'essi Purtroppo Afflitti da disabilità Per incidenti Per cose Cederà Quindi Sarà un incontro Un incontro bellissimo Un incontro bellissimo Ma che In questo stiamo crescendo Diciamo che la mezza Io ripeto L'ho detto ieri E lo vorrei ribadire anche stamattina Noi siamo persone fortunate Viviamo in una magnifica Meravigliosa città Una città che ha bisogno Solo ed esclusivamente Di alcuni Accorgimenti Alcune accortezze Poi che volete Ci sono cose che non piacciono Cose che piacciono Io Per esempio Quella piazza della Repubblica Così come la vedo la mattina Ci passo apposta Mi riesce difficile pure definire la piazza Per com'è Può darsi Che io venga smentito Dai fatti Cioè quando Finirà il tutto Magari guardarla dall'alto Guardarla da più Magari Avranno fatto una cosa garbata Non lo so Però I latini Dicendo dei gusti Busto Non a caso Piazza d'Arme Per me rimarrà sempre Un pugno nello stomaco L'ho detto Alla passata amministrazione Guidata da Gianni Speranza Dall'amico Gianni Che saluto Un mamma piaciuto E ovviamente lo ribadisco anche all'amministrazione nostra Cioè Quella villa Quella viabilità che hanno fatto Per il restringimento di carreggiata Quelle chiusure di strade Hanno combinato un patatrac Perché c'è una sofferenza nelle attività economiche che non vi dico Sì Sì L'operatori commerciali hanno problemi Ogni mattina vai a piare un caffè L'hanno manifestato più volte Eh sì Però Io vado a prendere il cappellato Vado a prendere il cappellato E tutti quanti Ormai Che mi conoscono Sanno dalla trasmissione Ti fermano D'altro caso Mi sembra quasi Nobvietà Nobvietà Ecco Non vorrei che qualcuno Equivocasse No ma è un discorso saggio quello che fai Tony Però non dimentichiamo che questa città è nata 50 anni fa E' nata Diciamo il decreto E' nata la città E' nata la città E' nata la città E noi lo abbiamo Lo tocchiamo tutti i giorni Quando si fanno manifestazioni Per esempio tu parlavi l'altra volta dell'ospedale Le manifestazioni che abbiamo fatto dell'ospedale Sono state continue Ebbene la risposta di Lamedina è stata sempre sempre limitata Guarda paradossalmente Io ho visto unità in questa comunità Lamedina L'ho visto una sola volta Quando qualche anno fa sono scomparsi quei sette ciclisti 8 ciclisti Giù a Santofemia Falciati da quel pirata della strada In quella manifestazione al di Polito Il di Polito era strapieno Come mai l'avevo visto E l'ho praticato sempre durante le manifestazioni sportive Ma era strapieno di gente Anzi non bastava Ecco in quel momento io ho avvertito Un po' il senso della comunità Lamedina che appariva Dopo la nascita della città Però è poco Nelle manifestazioni spedaliere si è vista poca gente Per raccogliere quelle 5 mila persone di cui ti parlavo l'altra volta C'è voluto la manettina Comunque io devo dire che anche negli anni 70 Quando siamo stati sulle barricate per l'università Per il fatto dell'università Dagli anni 70 Ci fu anche mi pare Ci fu anche da parte nostra Voglio dire un'unione incredibile Lì fu la prima azione Dei Lamedini che risposero a quella porcata che fu fatta alle spalle della città E fu l'inizio L'inizio di quello che poi è avvenuta È avvenuto la spoliazione continua Abbiamo pagato Quell'operazione l'abbiamo pagata Possimo senza classe dirigente Perché quella lì era già il messaggio Che ci mandavano determinati personaggi di vertice della politica Il nostro problema alla mezza è stato che non abbiamo mai avuto uomini di vertice E quando dico uomini di vertice Dico quegli uomini che riescono a stare a Roma Ma nell'ambito dei loro partiti riescono ad incidere Noi questa fortuna non l'abbiamo avuta Ma di questo ne abbiamo sempre parlato Il nostro peso specifico A livello politico A livello di classe dirigente è stato sempre quello che è stato Siamo stati sempre Soverchiati Di gran lunga Dai catarzaresi In un momento storico dai cosentini Non dimentichiamo che questo inizia con gli anni 70 Tu eri con me, eri ragazzino Occupammo la stazione ferroviaria per una quindicina di giorni Ti chiedo scusa Eh? Insomma se vuoi definire me 70 Una ragazzina ha 20 anni Eri già, eri già fatto Già uomo fatto Eravamo E tu ti ricordi, se ben ti ricordi Quelle manifestazioni della stazione ferroviaria Che bloccarono la stazione per almeno una quindicina di giorni Proprio per sostenere la rivendicazione di avere un'università Tu pensa se avessimo avuto qua l'università Da allora Che cosa poteva avere? Arrende Ma lo stiamo vedendo a cosenza e arrende Esatto Ci sono 30 mila Che cosa poteva succedere? Ma questo lo debbono capire quelle teste di cazzo della politica Noi abbiamo capito prima delle Intanto noi siamo stati fottuti da loro Ci hanno preso in giro loro Attenzione Attenzione Per chi l'avesse dimenticato La sinistra ha giocato anche un ruolo Aspetta In questo Ammo bannaccati Tu te lo ricordi quando tutti parlavano Noi Bannaccati Quando tutti parlavano in quel momento Tutti i partiti politici facevano L'università è al posto giusto Noi parlavamo di università alla mezza Noi parlavamo Gli altri giovani appartenenti agli altri partiti Soprattutto la sinistra Diceva l'università al posto giusto Ma guarda caso Il posto giusto non era la mezza Ma doveva essere Cosenza Perché gli ordini di scuderia erano quelli Perché c'era un Mancini e un Misasi su Cosenza Che premevano terribilmente lungo questa strada E c'erano i rappresentanti autolocati di Catanzaro Che avevano tutto l'interesse A che l'università andasse a Cosenza Perché qualche anno dopo si dovevano costruire La loro università Sì vabbè ho capito C'è stata una spartosa E' stata una spartosa A Reggio A Cosenza E noi hanno chiamato i pacchi I primi pacchi non sono quelli che vedete in televisione su Rai 1 a fare i tuoi Con Flavio Insina che li conduce Il primo pacco L'abbiamo subito noi Il famoso pacchetto Colombo N'ha regalato un pacco Casolù di Usa Basta andare nell'area ex Sir Per vedere quale sfasciume è stato lasciato Dalla Sir Dalla Sir dal signor Rovelli Che ha fatto un'ambassa di miliardi 2 mila miliardi E si sono stati spesi lì E hanno sfreggiato Non hanno rovinato una pianura Che aveva ben altre finalità E non ti parlavo più E guarda aggiungo io Quell'operazione università Lì cominciò lo sfaldamento della città Cioè l'allontanamento Dai ruoli che poteva avere Perché la mezzia poteva avere davvero un ruolo regionale Il coordinamento di tutta l'attività della regione Economica, produttiva, industriale Tutto doveva girare Ma li abbiamo tutti contro E la prima avvisaglia Io l'ho scritto bene Che ancora non ho finito Perché lo presenteremo l'altranno La prima avvisaglia avvenne All'indomani del varo della legge istitutiva della città Quando immediatamente dopo Il 68 fu fatto il 4 gennaio C'erano le elezioni politiche successive Praticamente Arturo Perugini Che era stato uno dei firmatari C'era stato pure Foderaro Che aveva firmato quel progetto Ma Foderaro ha avuto un gran ruolo Ma Arturo Perugini Che fu il protagonista in quel momento Insieme a Foderaro Ma soprattutto lui Fu completamente allontanato Io scrivo gli antefatti di come avvenne quella porcata Con tutti quelli che supportarono l'operazione Allontanato dal collegio senatoriale di Lamezia Era stato senatore per quel mandato E fu sostituito E' bene che lo diciamo queste cose Perché queste cose si devono dire Perché la rovina della città è partita allora Fu sostituito dal Catanzarese Se tu lo sai Bisantisi che era deputato E passò al Senato apposta Perché doveva rappresentare la città A modo loro naturalmente Al posto di Perugini E' la cosa più grave 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 che i Lamettini lo votarono Questa è la vergogna Hai capito? I Lamettini Per quanto riguarda le votazioni Modestamente Si sono sempre distinti per coglionaggine Per coglionaggine eccetera Vabbè poi negli anni hanno giocato Hanno giocato un ruolo altre Altre dinamiche altre cose Qua questo benedetto Ci sono stati i bisogni e i stati necessitari Qua ormai danno il voto a chiunque A chiunque Basta che uno dici Non ti preoccupare che mi avevo io Perché almeno il Paese non ti preoccupare che mi avevo io Il voto si imposta così Basta che uno ci dice a chi la camiglia Non vi preoccupate che mi avevo io Che a chi la camiglia ci vado e ci vuote Finchè il cazzo Dovamo arrivato Non è che ci riflettino Sopra eccetera Comunque vede qua questa storia della nostra città Ovviamente io blocco Blocco perché conosco la passione di Riccardo Nell'esprimere questi concetti Queste cose qua Perché lui poi È stato protagonista anche a livello politico Nel Consiglio Comunale eccetera Quindi Però questo è un discorso che io magari vorrei affrontare Con una trasmissione ad occhio Proprio per parlare della media Perché io credo che le nuove generazioni Debbano sapere Lo faremo il prossimo anno quando presenteremo il libro sulla città E se, ora aspettiamo un anno Il 4 gennaio Lo facciamo prima quando vuoi Non c'è bisogno Lo facciamo prima perché abbiamo carte, documenti E poi abbiamo anche dei bei ricordi No perché, ripeto, io ho fatto parte di tutta quella gioventù Che Però attenzione Come spesso avviene Stranamente Sopra che la cazzo E c'erano tutti Dicono che c'erano tutti Io veramente Eravamo pochi Dato che quando mi sento parlare Ah Tony Ma tu dove cazzo eri Cioè voglio dire Qua tutti quanti Erano Su Pagherruvia A protestare per difendere la Università Sì, tutti quanti Erano pietro palate A tutti quanti Dall'ospitale Tutti quanti E ora mi rompete le palle Cioè abbiamo carte Documenti Fotografie Che smentiscono clamorosamente Tutto un sacco di gente Che mi lanza credito State stasera E mangiate i pastegnini Che avete prima Lassate stare Attenzione Non che Uno voglia Merite eccetera Io sono uno sconfitto Siamo tutti degli sconfitti Io sono un perdente Politicamente alla mezza siamo tutti degli sconfitti Io sono un perdente come Lamettino Figuratevi se io qua ne faccio no Io mi repito un perdente Abbiamo perso Siamo degli sconfitti E lo dico con amarezza Queste cose Quindi Poi Quello che è venuto dopo Ha contribuito Allo sfasciume Che vediamo Che vediamo Ecco perché io No Dico Guardate Cerchiamo di essere Anche noi Vicini A questa amministrazione Non mi preintendete Guardate qua Io quando c'era C'è stato da parlare bene Di Gianni Speranza Guardate che a Gianni Speranza I dieci anni di Gianni Perché dieci anni almeno ci vogliono Per uno per poter porre in essere la sua idea di città Deci anni ci vogliono Gianni Speranza ha lavorato Ha lavorato in un momento storico molto favorevole Perché Gianni ha avuto la possibilità anche di maneggiare No? Il comune di maneggiare del danaro C'erano delle possibilità economiche molto molto importanti No? Però Gianni ci ha messo anche del suo Cioè io voglio dire che Se andiamo a fare poi una disamina, no? Non è che possiamo Io non me la sento di dire Che È stato tutto Negativo, dai Riccardo E che il Gianni Si è guardato bene Alla fine Del suo percorso sindacale Sindacale inteso come sindaco Si è guardato bene a mio parere Di Arrivare al default Quindi Arrivare alla chiusura del comune Al fallimento del comune Perché questo gli poteva anche pregiudicare Un'attività politica futura Non dimenticate Che un sindaco Di un'amministrazione No? Dissestata Quando venne dichiarato dissesto Che il sindaco Si è giocato le sue chance Ha chiuso Ha chiuso quella politica Perché è così E dato che Gianni Aveva delle buone possibilità Di essere inserito a livello regionale All'epoca mi ricordo Allora hanno cercato Fino all'ultima ora No? Di fare questa sorta di cosa No? Insomma hanno galleggiato E' subentrata l'amministrazione Mascaro Con tutti i rischi E con tutte Voglio dire I cocci No? Lasciate Diciamo la verità Perché Vogliamoci bene Amici miei E' venuto che ce la meniamo L'amministrazione E' stata L'amministrazione Mascaro No? Gli è stata Gli è stata Data in eredità Una situazione Disastrata Diciamolo Diciamolo Tanto è vero che io Una colpa do a Paolo Mascaro L'ho detto Lo ripeto E lo ripeterò sempre Secondo me Paolo Ha sbagliato Nel nonno Fare presente A tutta la collettività Guardate Io il Comune Non dichiarerò mai il dissesto Perché un'onta Un'ulteriore onta Che non voglio che colpisca la mia città Che amo Però è giusto Che tutti quanti voi sappiate Com'è la situazione Esatto Piggiamo i carti Andiamo su poco corso Allo teatro Allo campi sportivo Piggiamo i miei carti E facciamo una bella lettura Ecco Questo è il comune che abbiamo ereditato Ma non ci piangiamo addosso Andremo avanti E cercheremo di riffo di raffa Di riaggiustare la navicella Adesso oggi A distanza di due anni Tutti quanti vanno addosso a Mascaro Ma cagato Ma condagato Io dico che dal punto di vista economico finanziario Qualcosa si sta facendo Qualcosa si sta facendo Qualcosa si sta facendo Signori miei Cioè non dobbiamo dipingeremo Su arrivati Gli attila della situazione Perché non sarebbe nemmeno giusto Ripeto C'è Paolo che è una caputosta Combinico E l'anima di morte Va come un caterpillar E questo è nato Alcune volte Alcune volte Ripeto Ancuno consiglio L'avessi di sentire Spassionato Eccetera Perché ringrazio della Madonna Alla mezza Non dico che sono tutti i paracole Non dico che tutti quanti si avvicinano allo sindaco Perché debbono ottenere dei privilegi C'è anche gente che ama la città Al pari di Paolo E dice Oh Paolo ma Chi dice Ma come si potesse fare di questa maniera Eh Picché No Picché un cancello che la delibera Torna a rito E mi intapposta la situazione Ecco No Questo voglio dire io No Ancora Non è giusto Non è giusto Trarre conclusioni No Sui social Vedete Anche io Anche io sono molto critico sui social No Quanto vuote libero Un po' di criticità Da parte della gente Libero Silure E carichi 11 Lo avvertiamo Perché noi viviamo In mezzo della gente Quindi Proteste Delusioni No Che Insomma Non è d'altro Ricca Ricca Parliamoci chiaro Ricca Parliamoci chiaro Si può riprendere magnificamente C'è stato un programma elettorale C'è stato un programma elettorale Esatto Però vedi Ma io non lo so Se si poteva fare Non lo so se si poteva fare Dividere le due cose Cioè io comincio adesso Quello che è passato Se far nominare un commissario straordinario No Io non lo so se si poteva fare La butto lì così Si poteva fare E vado avanti adesso con la nuova amministrazione mia E cerco di risolvere i problemi che affronterò da oggi Quello che è passato Se lo devono vedere quelli che lo hanno realizzato Ma scusa E' come la multiservisi Esatto La multiservisi A me non mi convincerà mai nessuno E' come la multiservisi Ha arrivato il presidente Costanzo Che non è un manager Che è un ottimo professionista nel suo campo Ma che stiamo parlando E' la municipalizzata E' municipalizzata un po' Chiamatela come cazzo volete E' in azienda Ci vuole un picchio diverso una cosa Può darsi pure che non abbia No Non sia il nostro Montezemolo O eccetera Il presidente Costanzo Però signori miei La situazione della multiservisi Non è allegra Quando si potevano fare investimenti Quando abbiamo la discarica Perché la discarica portava danaro Alla multiservisi Molto danaro Ma c'è stato un momento in cui la multiservisi funzionava Sì ma molto danaro Quando fu cancellata la discarica Quell'hanno avuto giù Sono incominciati i dolori Quando si poteva investire Non si è investito Cioè voglio dire La passata gestione Ha commesso anche degli errori marchiani Che sono là E che sono facilmente deducibili No E allora Invece Ha cominciato Costanzo Ha risposto Miletta Ecco Rintuzzo un'altra volta Costanzo E' un rimpallo E' un rimpallo E' un rimpallo Alla gente Un cintiutti in nenti Presidente Caro Miletta Caro Presidente Costanzo Alla gente Un cintiutti in nenti E' un rimpallo E' un rimpallo Noi sugnù chi Sono meglio sugnù io E tu chi buona E spostati il cavo Ma non gliene fotte nulla alla gente Alla gente interessa che Luco vi mentite di buzzo buono E sta cazzo ai multiservizi Finalmente Perché noi ancora la multiservizi Si può salvare A tutte le possibilità Ma un esci fora E' un rimpallo E' un rimpallo E' un rimpallo E' un rimpallo E il contributo deve venire anche I sindacati Noi non lo scrivono Ma non lo so Per una mano Solo per una mano Per meno Perchè quello si E' un facile consenso Non tre con iniziare sordi Ehi volete pane E quindi ciitorna Per nous Aghe coyote Per la interpretazione Vabbè quanto insieme Con quanto fà Faccio dubbi Carbonati di sordi Siamo alla fine. Dobbiamo dare spazio ad Albino con le sue canzoni. Va di prescia perché gli debbono consegnare quel confetto di macchina che ha il bacio. Quando prendi una macchina e passare di Sant'Antonio mi dà la benedizione perché non è possibile. Tu prendi un bel involucro e all'interno sti motori il luogo ogni volta. Ogni settimana vanno due meccaniche a portare questa cazza di vita. Vabbè. Oggi è una giornata così così. Il tempo non è molto limpido. Dietro le nuvole. Ci sono i palloni. Se era il caso ci mettevamo dentro. Gioca a nascondino. Noi vi ringraziamo per l'ascolto. Come sempre le solite raccomandazioni scrivete, telefonateci dove c'è bisogno del nostro intervento con le telecamere per mostrare ai nostri amministratori le situazioni che via via troviamo in tutto. Perché la messia è grande. Quindi io prego anche alle persone di queste contrade di chiamare. Noi veniamo. Se c'è qualcosa che si può fare noi lo facciamo. Non perché noi non siamo un pronto intervento a livello manutentivo. Noi siamo un pronto intervento a livello mediatico. Portiamo all'attenzione dell'amministrazione, delle autorità eccetera una situazione di disagio. Noi siamo a disposizione. Per noi non è una perdita di tempo. Per noi è... a noi ci gratificate. A noi ci gratificate molto se ci invitate per queste cose qua. Quindi buona giornata. Vogliamoci bene. Domani è un altro giorno. Ringrazio... Ma questo è scontato Riccardo Viola per la sua presenza e che io come vedete debbo bloccare per chi si comincia a parrare. Uno si è di stare e mi si indivano. E mi si ricoglie dopo di ora. Perché è fatto così. Perché poi è la passione che prevale. E questo lui lo ha messo sia in politica sia nello sport. Nello sport. Sì. Intendiamo. È stata sempre la mia vita. Eh. La passionalità fa parte del... Eh ma è giusto che sia così. È stato sempre così. Vi voglio bene. Vi lasciamo al Bob Dylan De Noantri. Il nostro Albino Ambrosio che stamattina vitalizierà con uno. Albino che ci canti stamattina? Catarinella. Catarinella. Tu, angelo della madonna. Pensavo ero più io. Catarinella sei proprio bifolco. Chiamone. Ma la vicciaia è una brutta carogna. E la gioventù è una bella palomba. Guarda verso il là per favore. E la donna mi ha sempre rire quando quando ha canso. Si tindi, bovini, riveni, tindi. Calupa e simio non entuntane. Catarine, cinci. Catarine, cinci. Catarine, cinci. Catarine, cinci. C'è un po' di più. C'è un po' di più. Catarine, cinci. E ricordi quando ero alla giumara? C'è un po' di più. E la donna mi ha fatto saponare. Catarine, cinci. Catarine, cinci. Catarine, cinci. Se il maschile lo chiamiamo Ciccio. Che quando erano i migliari, lo giunge. Catarine, cinci. Catarine, cinci. Catarine, cinci. Catarine, cinci. Se il maschile lo chiamiamo Ciccio. Che quando erano i migliari, lo scuoco alla casa. Catarine, cinci. Catarine, cinci. Catarine, cinci. Catarine, cinci. Catarine, cinci. Catarine, cinci. a Giovanni lo salutiamo lo saluto e ci vediamo sempre se ti vuole domani mattina sempre qui al campo di tennis del nostro professore mi raccomando ciao a tutti